Amici di Trevi Meteo, bentornato a questo aggiornamento delle previsioni a medio e lungo termine. Andremo insieme a vedere come si chiuderà la prossima settimana, settimana che nella prima parte continuerà a vedere il dominio dell'alta pressione con temperature che si manterranno decisamente al di sopra delle medie del periodo. Ma poi verso la fine della settimana, guardate, l'alta pressione tenderà a ritirarsi un po' più a ovest, consentendo così a correnti nord-occidentali un po' più fresche di arrivare a lambire il nostro paese, portando un po' di instabilità e un calo delle temperature. Più nel dettaglio, allora, tra il 14 e il 15 di giugno, ecco arrivare aria più instabile dapprima sulle regioni settentronali, in particolare quelle di nord-est, dove sarà possibile anche qualche nuovo temporale e poi questa perturbazione sfilerà lungo le regioni adriatiche che saranno comunque coinvolte solo marginalmente. Però un po' per tutta l'Italia uno degli effetti, come dicevamo, sarà anche il calo delle temperature. Una diminuzione comunque contenuta a iniziare dalle regioni settentrionali e poi via via durante il prossimo fine settimana anche al centro-sud. Non arriverà certo il freddo, semplicemente ci riporteremo su valori un po' più normali per questo periodo, insomma ci riportiamo nella norma, nulla di più. Con questo è tutto, ma state con noi per gli aggiornamenti così vedremo bene che fine farà quel fronte freddo che attualmente sembra solo lambire l'Italia. Con questo è tutto, sempre su trebimeteo.com.